aspetta solo stavo avviando il video perché voglio registrare ancora eccomi sono pronto aspetta il 4 ho detto ah il 4 è scusa a posto ma no questo inizio del video lo devo tagliare proprio così come no è il 4 no è il 6 ho il limite lo lascio anzi lo lascio così fa ridere la gente grazie a tutti Salve a tutti Grazie Ancora lag Grazie Enemie contact Grazie 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 To cazzone mi è venuto addosso Maffangulo Grazie 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Mi piace il TS di pomeriggio presto, è bello silenzioso. Eh sì. Quanto è... entrano quelli... quelli proprio avvalinati con quel gioco. Intorno alle 3, un po' di lavoro, appena entri proprio di sfogli, eh. Eh, ciao! Di sera, dentro, ho due o tre di fila. Succede un bordello pauro. L'altra notte alle 3, ma non sono riuscito, per un'ora e mezza, non sono riuscito a togliere nemmeno un... Niente, niente. Tutte le bombe misere andavano proprio costiare. Ma uccidevano appena entravo. Allora, non so se lo vedete nella tv, su Italia 1 fanno una specie di Nikita nuova stagione. Ma lo sto vedendo, non è malaccio, dai, per essere una cosa del cavolo è fatta abbastanza bene. Guardi, il primo nemico. Scemo de 48. No. Cos'è? Scemo, chemo... Io lo leggo... Io lo leggo scemo. Eh, ma tu, ma io lo leggo chemo. Eh, sì, non c'è la S. Scemo è S-C-H-E. Sì, lo so che dovrebbe essere con le... però io anche così lo leggo scemo. Cioè, tu lo vedi scemo? Allora, scusa. Dovrebbe essere chemo, però chemo, camouflage, che sarebbe? E poi anche questo S-C-O-R-P-I-O-N. Il numero 10, mannaggia. Così tanta S-C. Ecco, ancora un'altra volta la battaglia è cominciata senza di me. Ma quanto è bello sto teletù. Cioè, la prossima volta mi prendo internet da Enel. Dai, ti preoccupare. Ma, dico, la prossima volta internet da lo prendo Denel oppure dal tabaccaio. Sei entrato ora in battaglia? Ma no, ormai l'aereo se la passa da solo. Ah no, infatti non si è proprio connesso. Ah, ecco, ora sì che sono... che sono in battaglia e devo fare la picchiata per scappare. Sì, rigira, rigira. Madonna, tutti sono venuti da me. Grazie, grazie internet. Mi sono conficcato sotto il ponte. Uff. Uff, per un perlo, quasi. Dai che non è ancora finita, ancora mi sparano in culo adesso. Ma fa un bucho così. Un bel perlo, quasi. Un bel perlo, quasi. Un bel perlo. Un bel perlo, quasi. Ogni, aggiorn Fanni. La Reg ethical a scapa. Si la chasse la scopla. Di aviz al dro智. Un bel perro. Un bel perlo. Un bel perlo. Un bel perlo. expectingi! Un bel perlo. Sele liti vu-lu carri con il kidino. Allora non Billi perlat Å rotte-un. Cazzo mi sa sparato uno dei miei i a i i i Grazie a tutti.